Benvenuti nella storia degli orologi Illinois. Illinois Watch Company è un marchio di orologi americano fondato a Springfield nel 1869. La compagnia ha una lunga e prestigiosa storia nella produzione di orologi di alta qualità e ha avuto un ruolo significativo nella storia dell'orologeria americana. Dopo aver raggiunto un grande successo negli anni 20, la compagnia ha subito una serie di difficoltà finanziarie e ha cambiato proprietà diverse volte. Oggi, Illinois Watch Company non produce più orologi di sua proprietà, ma si è specializzata nella vendita di orologi di altri marchi di alta qualità. In sintesi, Illinois Watch Company è stato un marchio americano molto apprezzato e di grande prestigio, ma che a causa dei vari cambiamenti di proprietà, ha cessato la produzione di orologi concentrandosi solo sulla compravendita e manutenzione di orologi di altri marchi. Nonostante questo, gli orologi Illinois sono ancora ricercati dai collezionisti sia per la loro storia che per la loro grande qualità e precisione. Qualità che hanno contraddistinto il marchio dal 1869.